Come vedete sono vestito elegante per, sono vestito, ho messo la camicia per l'ultima portata di Sanremo 2024. Finalmente lo dico e quindi sigla! Sono giamelli diversi, sono giamelli, sono uguali, sono vestiti uguali. Neg, Negrenga, prossima volta, la ragione più attuale, perché siamo, siamo, non siamo gli anni 90, siamo 2024. Mamma mia che scarpe! Musica di estremo e... Mi piace, è anche un bel messaggio come sempre. Ma ha messo la felpa sotto, ha la giacca, non ho parole. Lui vuole farci non entrare, secondo me, non ne piace. Venga, è sempre, ha gli abiti sempre particolari, non c'è l'amico. Belli messaggi, bello messaggio. Ma la musica mi distruba, perché il testo è importante, ma la musica è delle ricostecche, quindi non mi piace. Ma la musica però. Ma le canzoni sì. Non farò vedere tutti i cantanti in gare, sono quelli, sono quelli che mi interessano. Perché sennò il video sarà troppo lungo come, come, come gli eri. Quindi ho digitato così. Ma cosa sono? Perché ha messo quegli occhiali lì? Perché ha messo quegli occhiali? Sto cominciando a piacermi questa canzone. Vieni, carriera, vieni. Che classe è la melnoria? Una colonna d'arancia e di spiglie Sono una pianta tra le onde del mare Sono una sposa sopra l'antano Io sono il mio Aia, 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 aia Aia, aia, aia Aia, 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 aia Aia, 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 aia Aia, 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 aia Scusate Ma mi piace tanto Wow, che vestito Ah, mi sono cambiato, eh Aia, 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 aia Lì, tu è la vicina lei Ragazzi, ci veniamo Quando ho la certifica finale Così faccio Così posso Posermi un po' un attimo Perché sono tango tutti i giorni Non ce la faccio più E poi io mi ho già Commentato Le canzoni Quindi Quindi mi Mi fermo per adesso Qua Ma per voi Per voi Non è così Ci siamo Tertesimo posto Tertesimo posto Freco di Parma Vettinesima Vettinesima San Giovanni San Giovanni Vettantesimo posto Vettantesimo posto Vettantesimo posto Bruker 44 Vettisettesimo posto La Sald Manini Manini Vetticinquesima Renga Neck 24 24 Car 23 posto Los Wittlen Vettinesima Vettinesima Black Mama Vettinesimo posto Vettinesimo posto Vettinesimo posto Vettinesimo posto Vettinesimo posto negra mano diciottesima posizione santi francesi posizione diciassette diciassette mister re sedicesimo posto decolos decolos quindicesimo posto frerea manoria quattesimo posto emma tredicesimo dio dato dodicesima posizione il tre il tre undicesimo posto unicesimo posto gazzelle decima posizione alfa numero 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 alessandra lo 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 regina mango ha vinto il premio di lucio dalla altri due pelli per chi sono andati i premi Sergio Bardotti per il miglior testo vediamo ovviamente prego è il momento dei premi lo fai cinque ore a sera per cinque giorni tutto perfetto nei tren un casino non si capisce mai niente prego oh grazie miglior testo cercando gli altri per la miglior composizione musicale allora premio Sergio Bardotti che è un premio decisamente importante perché parliamo del miglior testo secondo la commissione secondo la commissione musicale e questo premio prestigioso va a forse è una mannoglia premio il mio testo e questo premio giocarlo di ragazzi Buongiorno a tutti 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 Dai Buongiorno a tutti 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 Buongiorno